Sono passati ormai 20 giorni dalla scomparsa di Cinzia Peccicar, la 66enne svanita dalla sua casa di Aurisina il 18 ottobre scorso. La donna avrebbe ricevuto una telefonata nella mattinata, dunque sarebbe uscita dal proprio alloggio Ater al civico 25 di Aurisina Cave senza farvi più ritorno. La donna condivide l'appartamento con altre due persone. Della vicenda si è occupata anche la celebre trasmissione Chi l'ha visto il 25 di ottobre. La donna alta 1,65 m ha occhi e capelli castani, non aveva con sé il cellulare nei documenti. La denuncia di scomparsa è stata fatta ai carabinieri di Aurisina che continuano a portare avanti le ricerche ma senza esito. La 66enne stando le verifiche effettuate non è mai salita su treni o autobus. È stato attivato il piano provinciale dedicato alle persone scomparse. A mettersi alla sua ricerca anche l'associazione Penelope che ha già seguito il giallo relativo alla scomparse e alla morte di Liliana Resinovic.